Ciao ragazzi appunto in questo nuovo video ragazzi Allora in questo video andiamo a parlare appunto di Milan Dopo tanto tempo torniamo a parlare appunto di Milan Della questione società della Young Golly Comunque prima di iniziare il video se vi siete persi l'ultimo video di ieri Vi lascio qui sotto il link in descrizione e qui sopra nelle schede Se ve lo siete persi il post partita di Brasile e Belgio Andatelo a vedere se non lo siete visti Comunque ragazzi Oggi è il 7 luglio E entro il 6 ragazzi Come sapevate tutti visto tutte le notizie Young Golly doveva versare 32 milioni di euro Per non perdere la società Ragazzi che cosa è successo Young Golly non ha versato questi soldi Cioè ha avuto praticamente un mese e mezzo di tempo Per versare questi soldi prestati appunto dal fondo Elliot Young Golly non li ha prestati Cioè Young Golly non li ha restituiti Non li ha restituiti Non li ha depositati ragazzi Young Golly non ha depositato i 32 milioni di euro E voi ragazzi direte E beh che cosa succede Ragazzi Young Golly perde tutto Young Golly perde tutto Perde il Milan Perde tutto Mentre stavamo trattando con Commisso Che potrebbe essere il futuro presidente del Milan Ma ora è veramente molto difficile Perché se Young Golly perderà tutto Il Milan andrà nelle mani del fondo Elliot E non saprà Non sapremo il nostro futuro Chi sarà il nostro presidente Invece se la vuole ancora Young Golly E accettava quelle offerte che ha fatto Commisso Perché ragazzi Commisso ha fatto 10.000 offerte Young Golly le ha rifiutate tutte E ragazzi Young Golly adesso rischia di perdere il Milan Cioè per ora l'ha perso Però ragazzi Young Golly non ha Non ha veramente controllo della società del Milan Però ragazzi il Milan è senza presidente Dicono ragazzi che Young Golly Verserà i 32 milioni lunedì mattina O lunedì pomeriggio Però ragazzi secondo Young Golly Perché il fondo Elliot non ha parlato Il fondo Elliot non ha detto niente Il fondo Elliot non ha detto Che ti diamo 48 ore in più per pagare E ragazzi se così fosse Cioè se il fondo Elliot non gli ha detto neanche A lui niente in privato Io spero che ha detto qualcosa in privato E noi non lo sappiamo Perché altrimenti ragazzi Noi siamo senza presidente Andiamo in mano al fondo Elliot E non sappiamo cosa succederà Invece ragazzi se ce l'aveva ancora commisso Se appunto Young Golly Avesse accettato le 10.000 offerte di commisso Adesso avremo un presidente No Perché adesso siamo nel mano del fondo Elliot Se il fondo Elliot non darà 48 ore Cioè ragazzi ieri doveva essere la giornata In cui dovevamo vendere la società E Young Golly versava quei 32 milioni di euro Che cosa è successo? Young Golly non ha né versato i 32 milioni di euro E quindi rischia di perdere la società Al 90% perdere la società E poi ragazzi Lascia praticamente il Milan senza presidente Perché le banche cinesi ragazzi Adesso sono chiuse Gli hanno sbloccato tutti i conti Perché Young Golly è pieno di debiti Non ha versato i 32 milioni di euro Ragazzi a me questa cosa fa veramente nervosire Perché noi siamo stagi di un cinese Che non capisce niente a livello commerciale A livello societale Ragazzi veramente una cosa Mi viene proprio da spaccare tutto ragazzi Perché in questo momento Ho l'adrenalina a mille Veramente un nervoso incredibile Perché ragazzi Young Golly non ha versato quei soldi Che gli hanno prestato un mese e mezzo fa Che lui aveva promesso che ridava Che lui aveva promesso che ridava Young Golly Young Golly aveva promesso che quei soldi gli ridava Non gli ha ridati Adesso noi siamo nelle mani del fondo Elliot Ma secondo Young Golly Lui potrà ancora versare soldi Entro lunedì Ma il fondo Elliot Non ha ancora detto niente Perché ragazzi Se Young Golly pensa Che il fondo Elliot Gli darà ancora 48 ore C'è una minima possibilità Perché il fondo Elliot Se non gli dice niente Ragazzi Young Golly perde la società Noi non possiamo più essere presidenti Con un nuovo presidente Che sarà appunto commisso E noi siamo noi del fondo Elliot Del fondo Elliot E non sapremo il nostro destino E chi sarà il nostro presidente E tutta la nostra nuova società Per l'anno nuovo C'è veramente assurdo ragazzi Assurdo E io qua mi arrabbio E io qua mi arrabbio Siamo nelle ostaggi di un cinese Siamo nelle ostaggi di un cinese Che non capiscina dal livello societario Che ha rovinato un Milan Che non ci ha fatto andare in Europa League Speriamo nel tas di Lausanna Ma in questo momento Il tas di Lausanna non mi importa Perché io non voglio perdere appunto Tutti Non voglio essere senza presidente E stare nelle mani del Del fondo Elliot Perché non sappiamo il nostro futuro Col fondo Elliot E non sapremo qual è Invece ragazzi Yongoli trattava Accettava un'offerta qualunque Anche se ce ne aveva perdere un po' Ma con quello che hai fatto Alla fine Andarci a perdere È la cosa migliore Te lo meriti Anche se ce ne aveva perdere un po' Accettavi una di quelle 10.000 offerte Che ti ha fatto commisso E adesso noi Avevamo Il Milan in mania commisso Ragazzi veramente Mi sento schifato Mi sento schifato Ragazzi vabbè Chiudo il video Perché se no Adesso spacco veramente tutto Niente ragazzi Vediamo Questa cosa Che appunto succederà A livello societario Commerciale Commerciale del Milan Speriamo che Yongoli E il fondo Elliot Lì a 48 ore Appunto per finire Di trattare con commisso Per cercare appunto Di trovare un accordo Così commisso Sarà il nostro nuovo Il nostro nuovo Presidente Non avrà debiti Perché questo Noi siamo Nello stagio Di un cinese Che non capisce niente Comunque ragazzi Niente Fatemi sapere la vostra Qui sotto nei commenti Io voglio lasciare un bel like Se si vede al canale Noi andiamo a seguire su Instagram Per rimanere sempre Aggiornati sulla faccenda Poi metti In un strattino basso Offito Noi ci vediamo In un prossimo video E bella Ciao